ciao ragazzi allora per il piacere di molti e per la disperazione di altri non so se vi sarete accorti in questo ultimo anno ci sono sempre più articoli che parlano che hanno visto i lupi ovunque allora io ricordo che i primi lupi anni fa li parlo dei lupi italiani li vidi innanzitutto in fotografia poi li vidi in un parco e poi e bianchi o la fortuna di incontrarne uno nell'entroterra ligure poi ne incontrai poi altri eccetera adesso qui dove abito io ai piedi di una montagna noi andiamo a correre e a volte ci accorgiamo che poco davanti a noi corre anche un lupacchiotto ma quello io comunque abito più o meno ai 700 metri ma ricevo da tutti i ritagli di articoli che i lupi si avvistano in periferia di torino in pianura vabbè nella parte non so delle langhe eccetera ci sono ormai da molto tempo però ormai credo che siamo arrivati al momento che i lupi rappresenteranno un fenomeno dal quale in qualche modo ci dovremmo difendere ma non tanto noi personalmente ma se abbiamo degli animali una volta era il problema solo dei pastori specialmente quando salivano in alpeggio che andavano un po a casa dei lupi e quindi questi predavano il bestiame eccetera e oggi credo che pian piano magari ce li troveremo poi anche nei cortili e abbiamo una specie di fortuna che i nostri animali domestici non sono questa non rappresentano quel pasto così prelibato per i nostri cani anche voglio dire per i nostri lupi anche se i cani ogni tanto si sente cani gatti altri animali che noi abbiamo la compagnia spariscono perché specialmente in inverno in posti dove magari i lupi sono solitari non sono riusciti a trovare di meglio ecco che ce ne possono approfittare ma questo è normale per un predatore come vi dicevo abbiamo la fortuna che la carne dei nostri cani dei nostri gatti eccetera per loro non è così prelibata ma essendo dei carnivori quando poi hanno fame prevedono un po quello che vuole e credo che come tutti i problemi che abbiamo a volte i disagi qui in italia ma un po nel mondo occidentale ce li dobbiamo risolvere da soli non credo che a un certo punto conterranno i lupi faranno sparire i lupi come dicono altri toglieranno i lupi li metteranno in parchi questi sono un po utopie non credo che accadrà assolutamente in europa quindi immagino ma lo sto già vedendo dalle richieste che mi fanno le famiglie sempre più persone vorranno adottare se vivono in case singole con giardino magari un po vicino ai boschi un po isolato eccetera cani antilupi cani antilupi hanno bisogno di professionisti che hanno una cultura specifica per questo non c'entra quasi niente il cane antilupo con il resto della cinofilia ecco perché ho pensato di creare o meglio di modificare già un percorso che facevo in passato specificatamente per i pastori per i malgari creare l'istruttore cinofilo per cani antilupi lo chiamo proprio istruttore perché ha bisogno di istruire ma non i cani ma istruire le persone nel momento in cui adottano questi cani come gestirli come introdurli con altri animali che magari posseggono già come crescerli che poi si mantengano poi affidabili coi familiari cioè c'è bisogno di questa istruzione che è molto latente perché la cinofilia che oggi si sente un po quasi tutta dedicata ormai al cane da compagnia al cane che non so diventa protagonista del film eccetera questi sono cani di carattere tant'è che se noi li abbiamo i lupi non si avvicinano così facilmente hanno bisogno che noi abbiamo e tutta una serie di competenze che possiamo solo acquisire o studiamo direttamente o ci possiamo rivolgere a chi ne sa e io la mia intenzione è proprio quella in questo mese di dedicarla a quelle persone che sono appassionati cinofili e ne vorrebbero sapere un po di più sui cani antilupi e magari prendere questa qualifica di istruttore cinofilo per cani antilupi per la quale ho facilitato il più possibile il percorso in tutti i modi compreso sotto il profilo economico ma vedrete le informazioni che vi alleggo eccetera quindi direi che vi potreste interessare imparerete molte cose un percorso interessante imparerete molte cose sui lupi che non sapete ancora molte cose su queste tipi di cani e magari potrete iniziare un'attività affiancata ad altre magari ad altra attività cinofile che secondo me per adesso ancora un'attività un po rara facilissimo trovare un cinofilo che sappia magari educare un cane a convivere con la famiglia in appartamento andare in città eccetera è molto difficile ancora molto difficile trovare chi veramente in grado di conoscere la natura del lupo e anche del cane antilupo quindi vi volevo dare in antiprima questo avviso ai primi di maggio ci sarà l'esame avrete possibilità di studiare su questo video corso nel mese d'aprile mettermi in un cassetto questa qualifica o qualcuno la utilizzerà già da subito che come vi ho detto ho cercato di semplificarla il più possibile perché servono persone che incominciano a parlare in modo esatto del cane antilupo poi la pratica come vi dico sempre sarà a vostro carico cioè perché prima si impara la teoria si prende una qualifica e poi si fa esperienza come si fa in tutte le professioni ma per cosa riguarda la pratica ovviamente vi potrete appoggiare a tutti quelli che fanno già parte della nostra federazione per consigli eccetera eccetera ma questo ormai è una cosa risaputa lo fanno tutti bene vi ringrazio tanto per avermi ascoltato e dategli un'occhiata a questo percorso sarà sicuramente un ottimo completamento per tutti gli studi che avete avete fatto fino adesso sui cani e anche sui lupi perché imparerete cose che difficilmente l'avevate già sentite nominare bene grazie ancora per avermi ascoltato ea presto